benvenuti a noi chiesa al nostro viaggio di approfondimento alla scoperta di tutto quello che accade nella vita della diocesi di chiavari questa settimana iniziamo la nostra trasmissione occupandoci del giubileo dei ragazzi questo evento che si è posto nel cuore dell'anno santo della misericordia che ha portato a roma nella città del vaticano circa 70.000 giovani c'erano anche 170 pellegrini della nostra diocesi ragazzi provenienti un po da tutte le parrocchie del nostro territorio guidati da otto sacerdoti il momento culminante è stata la celebrazione dell'eucarestia con papa francesco in piazza san pietro ripercorriamo allora i passaggi centrali dell'omelia del papa e poi sentiamo alcune delle interviste raccolte da don luca sardella mettiamoci alla scuola di gesù per imparare ad amare perché l'amore concreto non quello delle telenovelas è la carta d'identità del cristiano così papa francesco si è rivolto ai 70.000 adolescenti italiani ma anche spagnoli francesi e belgi e da altre parti del mondo protagonisti del giubileo dei ragazzi nell'omelia della messa celebrata in piazza san pietro il pontefice ha sottolineato che amare vuol dire donare qualcosa di se stessi come gesù che ci dona la sua amicizia fedele e continua a volerti bene a starti vicino a credere in te più di quanto tu credi in te stesso se ascoltate la sua voce aggiunto il signore vi rivelerà il segreto della tenerezza prendersi cura dell'altra persona voler bene senza possedere essere liberi ha spiegato ancora papa francesco non significa fare quello che si vuole perché la libertà è il dono di saper scegliere il bene anche se faticoso la vera ricchezza siete voi non le cose che si possiedono la vostra felicità non ha prezzo e non si commercia non è un app che si scarica sul telefonino nemmeno la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell'amore la libertà è un'altra cosa perché l'amore l'amore è una responsabilità una responsabilità ma bella che dura tutta la vita è l'impegno quotidiano di chi sa realizzare grandi sogni ah guai i giovani che non sanno sognare che non osano sognare se un giovane alla vostra età non è capace di sognare già se ne è andato in pensione non serve crescere misericordiosi come il padre questo è il titolo del giubileo dei ragazzi che ha radunato a roma oltre 70 mila giovani fra cui 170 provenienti dalla diocesi di chiavari guidati da otto sacerdoti e da insegnanti ed educatori per tutti i momenti comuni la visita alle tende della misericordia alla scoperta delle realtà di roma che prestano servizio in diversi ambiti per poter concretamente aiutare gli altri facendosi protagonisti di opere di misericordia corporale spirituale il pellegrinaggio alla porta santa e ancora la celebrazione del sacramento della riconciliazione la festa allo stadio olimpico di roma con il video messaggio di papa francesco e la celebrazione della santa messa con il papa è stata un'emozione veramente forte avevo già sentito l'anno scorso ma quest'anno è stato ancora più bello perché il gruppo era più numeroso belle le parole quindi è stata un'esperienza veramente significativa bella e c'è un messaggio che più di altri ha lasciato una traccia nel tuo cuore delle parole di papa francesco questa mattina mi è rimasto impresso soprattutto il messaggio di non mollare mai avere sempre la speranza il papa diceva di stare sempre in piedi a testa alta e secondo me sono parole bellissime che non sempre riusciamo a mettere in pratica ma bisogna sempre appunto riuscire a avere la speranza non mollare mai tanti passaggi il papa ha toccato nella sua omelia ce n'è uno che più di altri ti ha colpito che l'amicizia non è un non si tratta di una cosa di un possesso ma l'amicizia si costruisce insieme e questi viaggi sono sempre una un'esperienza una più bella dell'altra sono anche un cammino di fede che serve a costruire le fondamenta della mia vita secondo me ora veniamo in diocesi e occupiamoci della solennità patronale di san giorgio che è stata celebrata in diverse località ed in particolare a portofino in quanto san giorgio è il patrono del borgo di portofino quest'anno i fedeli sono stati chiamati ad una particolare riflessione giubilare dedicata in particolare al segno della porta quale segno forte del tempo santo dell'anno del giubileo e poi da portofino ci spostiamo esattamente dall'altra parte della diocese andiamo a moneglia dove quest'anno la festività in onore di san giorgio è stata caratterizzata da un momento particolare dalla processione con l'arca del santo che da quest'anno viene portata nuovamente a spalle l'impegno è quello di continuare questa tradizione perlomeno una volta ogni cinque anni e allora su tutto questo vediamo i nostri servizi il gesto tradizionale della benedizione del borgo con le reliquie di san giorgio è l'elemento che lega da un anno all'altro la festa del patrono di portofino la riflessione sul giubileo della misericordia ha caratterizzato tanto la festa del 2015 che quella di quest'anno la cui preparazione ha avuto come filo conduttore il segno della porta monsignor alberto tanasini nell'omelia della messa celebrata nella chiesa parrocchiale divo martino ha messo in luce proprio questo aspetto è cristo la porta della salvezza leggiamo le cronache e diciamo proprio così o cambia il mondo quando impariamo ad amare il dio con tutto noi stessi e il prossimo come gesù ci ha amato o non cambia il mondo quando entriamo in un atteggiamento di umiltà di adorazione di colui che ci ha amato fino alla fine questa è la nostra fede questo è il combattimento di san giorgio e anche il nostro la devozione ai santi e amica dell'approfondimento della fede e dei grandi temi dello spirito e quindi rifacendoci a quello che il magistrato del vescovo abbiamo riletto in positivo la figura di san giorgio liberandola da quelle che erano le incrostazioni della geografia medievale la figura di san giorgio è una figura ricchissima tant'è vero che la tradizione orientale più antica e vincolante lo vede legato nei termini di uomo della carità uomo di valore nel senso esteso di misericordia perché il gesto di sconfiggere il drago sta proprio a significare la sua disponibilità a mettere a servizio la sua forza a servizio di chi ha bisogno e di chi è debole e ancora come terzo punto dopo il valore inteso anche nel senso di misericordia la costanza la costanza nel martirio perché quelle che sono le memorie più antiche dicono che non si è trattato nel suo caso di un martirio veloce ci sono stati addirittura anni di persecuzione anni di ingiurie ma giorgio è rimasto sempre fedele quindi queste sono per così dire alcune prerogative che ci invitano quest'anno a rileggere la figura di san giorgio e quindi legandolo ai grandi temi della fede o per così dire usando una dialettica in opposto la devozione ai santi non è affatto nemica dell'intelligenza della fede la celebrazione solenne è stata animata dal coro canticorum jubilo di zoagli diretto da carlo prunali che ha proposto oltre al repertorio tipicamente assembleare alcuni brani dedicati al grande tema della misericordia e altri tratti dal repertorio sacro più colto la comunità di san giorgio ha celebrato quest'anno con particolare solennità la festa del santo titolare come mai perché quest'anno abbiamo pensato per rifare un anno nell'anno giubilare della misericordia di iniziare una tradizione che in realtà c'era già che è la tradizione di portare l'iffigia di san giorgio in spalla e quindi quest'anno abbiamo pensato di portarla appunto come per tradizione si faceva e con l'impegno e il desiderio di portarla ogni cinque anni in processione così ecco come abbiamo fatto oggi è una cosa molto bella anche perché per la gente è un ricordo di quello che è stato un po' l'esperienza della festa di san giorgio nel passato ed è anche un segno come dire anche di unità profonda ecco tra la storia che è stata nella nostra comunità e quella che attualmente è qual è stato il cammino di avvicinamento alla festa che la comunità ha compiuto? abbiamo vissuto un tridù di parazione con la celebrazione della carestia un piccolo pensiero ogni giorno con una invocazione al santo e questa è stata l'avvicinamento molto semplice ecco poi abbiamo celebrato la messa solenne questa mattina e oggi pomeriggio abbiamo come sempre celebrato il vespro con la processione quanto è sentita la festa di san giorgio? la festa di san giorgio è molto sentita perché è una festa diciamo che intanto rientra in un periodo dove non c'è una folla eccessiva anche se in questo giorno essendo un ponte c'era parecchia gente c'è sempre tantissima gente però è sempre una festa molto partecipata proprio con il cuore della gente di Moneglia e quindi è molto sentita come celebrazione e anche molto vissuta anche a livello di preghiera sia prima che durante la celebrazione che durante anche la processione quindi è un segno anche molto semplice e molto forte di fede c'è un tema particolare di riflessione che è stato proposto ai fedeli in occasione della festa di san giorgio? ma in realtà non c'è un particolare tema se non una frase che ogni anno lasciamo come segno e ricordo della festa è tratta quasi sempre dal magistero del santo padre e anche oggi quest'anno c'era una frase pronunciata dal santo padre in cui si voleva mettere in evidenza quanto è grande il mistero della redenzione quindi della risurrezione che dà speranza alle nostre debolezze e anche alle nostre fragilità oggi abbiamo assistito a un evento eccezionale per Moneglia? certamente, era 50 anni che la cassa di san giorgio non usciva a spalle e quindi questo è un evento bellissimo per il nostro paese, per tutta la comunità di Moneglia e per tutti quelli che hanno partecipato un grande ringraziamento va alle confraternite che hanno partecipato, la confraternite che ha portato la cassa a spalle che è la confraternite del rottorio di Sant'Antonio di Mele e il crocifisso di Lavagna e di Santa Catarina di Siete Levante Voi quanti siete nella vostra confraternia? Noi ci siamo circa una settantina, quindi tutti partecipano, ognuno fa la sua parte quindi siamo tutti uniti e cerchiamo di portare avanti questa tradizione Portate anche il crocifisso? Sì, noi portiamo il crocifisso, l'altro crocifisso è circa 95 kg di peso siamo in pochissimi, quindi speriamo che nei giovani esca qualcosa di positivo Quanto siete attaccati anche a questa festa di San Giorgio? Festa di San Giorgio è un attaccamento che va radicato nella cittadinanza di Moneglia in particolare nella zona di Ponente di Moneglia dove c'è proprio l'omonima chiesa di San Giorgio e quindi è una devozione di gran parte di tutto il paese Come è nata l'idea di fare questa processione? La signora Maria Teresa è venuta all'Acqua Santa, ci ha visto che portavamo la nostra e ci ha abitato qua Voi avete una statua anche di San Giorgio, anche all'Acqua Santa? No, di Sant'Antonio Abate, a Mele, del Maragliano, un po' più pesante di questa Quanto pesa quella? Eh, più di 10 quintali Questa invece quanto pesa? Eh, non c'è tanto, diversità 7-8 Può essere 7 Ecco, e quanti siete voi nel vostro gruppo, nella vostra confratelle? Siete tanti? Eh, nella confratelle siamo 160-65 più o meno Ti portate la casa? No, siamo i confratelli, i portatori di casa sono... Sono tre squadre da 16 persone che la portano a Mele Tre squadre da 16 persone Più o meno una cinquantina di persone divise in tre squadre Da 16 uomini più un caposquadra, ogni squadra E portiamo la casa il giorno di ferragosto, il 15 agosto Che la confraternita si reca in pellegrinaggio al santuario dell'Acqua Santa Vicino a noi, nella Vallera Quanto tempo è che lo fa lei? Questa, che lo faccio io, circa 30 anni Ne ho 44, più o meno 14 Io porto il crocifisso in origine E invece che c'è la confraternita, quanti anni sono? 475 anni quest'anno Ed è 475 anni quest'anno Che andiamo in pellegrinaggio all'Acqua Santa Il 15 agosto Facciamo anche la festa, se vuoi dire Venire, sono capace Come vi siete trovati qua a Moneglia? Bene, bene, benissimo Noi siamo venuti da due sere a vedere la casa prima Perché non c'era niente Perché qui la portano sempre su un carrello Quindi sono venuti a spiegare tutto Preparare tutto E poi tramite lui Per la comunità locale è stato importante però vedere il santo portato a spazio Speriamo Voi quando è che fate la festa? 15 agosto Quindi vi siete allenati? Sì, ci alleniamo Oggi è un ritorno a casa qua a Moneglia? Per me ritornare a Moneglia è sempre come ritornare a casa Moneglia è stata la mia prima destinazione come sacerdote Qui veramente posso dire che ho imparato a essere sacerdote A viverlo E soprattutto veramente ho imparato a seguire Gesù attraverso questo ministero E Moneglia mi ha educato, mi ha fatto crescere E io sono sempre e sarò sempre riconoscente di questo Quale immagine evoca San Giorgio nella statua processionale che abbiamo visto oggi portata in spalla In questo atteggiamento di sconfitta verso il drago? Devo confessare che io veramente dei santi ne sapevo poco E quando sono entrato la prima volta in questa chiesa di San Giorgio Ho visto questo qui, non sapevo neanche chi fosse Però mi ricordo che la prima immagine, la prima sensazione che ho avuto È di questo uomo appunto forte E che sconfigge il male E subito mi sentivo dentro di me come un messaggio, come un richiamo Come un incoraggiamento A combattere anch'io i miei draghi Perché ciascuno di noi ha i suoi draghi da combattere Sono tanti i fedeli che oggi si sono radunati qua C'è una forte devozione a San Giorgio in questa comunità? Questo è una delle cose che sempre mi corpisce veramente Vedere quanto questi momenti che apparentemente sembrano cose eccezionali Nel senso che magari non hanno un radicamento, una base solida Invece no, ti rendi conto quanto la gente ha sete di Dio Lo cerca e soprattutto ha bisogno anche delle immagini Che rimandino a questa presenza di Dio Quindi i moneriesi ancora oggi, una volta di più Hanno dimostrato quanto ci tengono alla loro tradizione Alle loro tradizioni, alle tradizioni religiose Ma soprattutto quanto desiderio di conoscere Dio e di seguirlo hanno E questo è una cosa che mi sorprende, mi stupisce E in qualche modo mi incoraggia anche nel mio ministero Circa 50 chirichetti hanno partecipato alla giornata diocesana dei ministranti Che come ogni anno è stata organizzata dal seminario diocesano Proprio nei locali del seminario C'è stato un momento di gioco e poi la Santa Messa Preseduta dal Vescovo diocesano E poi ovviamente una bella merenda tutti insieme Vediamo La giornata diocesana dei ministranti Organizzata a Chiavari dal seminario Ha avuto un grande successo in termini di numeri Ma soprattutto di entusiasmo Una cinquantina di chirichetti Hanno partecipato da ogni parte della diocesi E con loro c'erano una decina di sacerdoti, educatori e catechisti Il gioco e la riflessione sotto uno splendido cielo primaverile Hanno caratterizzato la giornata Che è culminata con la messa Preseduta dal Vescovo nella cappella maggiore del seminario Monsignor Alberto Tanazzini In un dialogo sciolto e semplice con i bambini Ha spiegato loro l'importanza dell'ascolto della parola di Dio Attraverso la quale ciascuno di noi Può conoscere l'annuncio di ciò che Gesù Con il suo immenso amore ha fatto per ogni persona Che significato ha avuto questa giornata per tutti questi bambini? Come significato abbiamo pensato di pensare Cosa voleva dire per noi il Vangelo che ci ha letto il Vescovo Che voleva dire passare il tempo tra di noi Con l'amore che ci ha dato il Signore E anche perché abbiamo un'unica Una passione in comune che è fare chirichetti Che è un servizio che ci piace a tutti Nella giornata abbiamo Ci siamo divisi a squadre Abbiamo fatto vari esercizi spirituali E poi abbiamo fatto la messa tutti insieme dal Vescovo Che è stata secondo lui una cosa molto utile Perché ci ha spiegato come si dovrebbe fare bene una messa con lui I bambini hanno partecipato con interesse? Molto interesse Soprattutto non appena abbiamo detto C'era la messa col Vescovo Perché tutti belli Nel senso voglio fare qualche compito col Vescovo E ovviamente noi non potevamo darli tutti Perché erano più o meno una quarantina Secondo te che cosa si porteranno a casa? Una bella giornata di primavera a Chiavari Con esperienza che la porteranno a rifarla l'anno prossimo E con maggiore entusiasmo e con maggiori numeri speriamo E anche un impegno maggiore al servizio all'altare durante le messe? Sì, quello sì Solo che ora quest'anno è stato un numero maggiore dell'anno scorso Speriamo ancora che l'anno prossimo ci sia molta più gente E molto più entusiasmo Perché quest'anno c'è stato molto entusiasmo Appunto che molti sono divertiti e ne hanno parlato bene Come è andata la giornata? Beh la giornata è andata molto bene Perché penso sia un bel momento Anche per le varie parrocchie Per trovarsi tutti insieme E quindi condividere una bella esperienza E poi la giornata insomma Mi sembra anche bella Quindi è stata una bella esperienza per tutti Quanti bambini della tua parrocchia erano presenti? Eh più o meno una decina Quindi poi si sono uniti agli altri Hanno trovato nuovi amici E quindi penso sia stato molto bello anche per loro Come si è alternata la giornata, la mattinata e poi anche il pomeriggio? Beh all'inizio dopo qualche danza insieme Poi c'è stato il momento diciamo più serio In cui quindi ci sono state delle varie attività divisi in gruppetti Poi c'è stata la messa con il nostro vescovo Nella cappella del seminario Dopo la messa il pranzo e quindi un bel gioco insieme E poi la merenda eccetera eccetera E poi partecipavi da bambino a questa festa? Sì sì diciamo Adesso sono Ormai non faccio più proprio il chirichetto Però comunque lo sono stato per molti anni Quindi Ricordati il rimasto di questa giornata da chirichetto Beh è sempre un bel momento più che altro Perché uno poi è sempre abituato a essere nella sua parrocchia Invece questo è un bel momento di condivisione a livello diocesano Il Tigulio ha un cuore grande e solidale In questi ultimi anni ha accolto nelle varie comunità del nostro territorio Tante persone che provengono dall'Equador Ecuador duramente colpito dal terribile terremoto che c'è stato alcuni giorni fa Tante le persone che vivono qui nel nostro territorio Che sono in apprensione e che seguono con particolare dolore Quanto sta accadendo nel loro paese C'è stata una veglia di preghiera Nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari Proprio per ricordare la popolazione colpita dal terremoto La riflessione è stata tenuta dal pastore Della chiesa evangelica di Chiavari e di Rapallo Martini Barra Iperes Vediamo Mentre la terra trema e spazza via certezze e prospettive C'è qualcosa che rimane per sempre È la parola di Dio nella quale fondare la speranza È la riflessione che il pastore evangelico Martini Barra Iperes Ha offerto in occasione della veglia di preghiera per l'Equador Il paese è in ginocchio per il terremoto del 17 aprile Il numero delle vittime è salito a 700 Tra morti e dispersi Più di 16.000 i feriti Mancano acqua, cibo e beni di prima necessità In cattedrale a Chiavari Si è tenuto un momento di preghiera e di raccoglimento in veste ecumenica Il pastore Ibarra ha poi sottolineato Che nonostante il dolore e la fatica Occorra parlare di quanto accaduto Per non lasciar vincere la morte e il terremoto Mentre la terra trema La parola di Dio è stabile E ci dice che il regno del Signore è vicino Ora più che mai E sta su una parola per noi Questa parola è per noi Ci porta a consolazione e speranza Tutto trema Sembra che non ci sia niente di stabile Però c'è una parola che rimane per sempre È la parola del Vangelo Che dice Abbiamo ancora la speranza Tenemostra via e speranza La comunità ecuadoriana del Tigulio Si è riunita in cattedrale Insieme a molti altri fedeli della diocesi Quando un popolo si ritrova Per pregare il Signore Ha detto Ibarra È segno che è un popolo che si può rialzare Perché non rimanga sepolto sotto le macerie del terremoto E si rialzerà a Ecuador un'altra volta E vincerà a questo popolo una nuova battaglia La battaglia della ricostruzione Dell'iniziare di nuovo Con il fondamento però Che la parola di Dio ci ha insegnato Al termine i presenti hanno portato un lumino Ai piedi dell'altare Dove era deposta la bandiera dell'Equador Un gesto di offerta In memoria delle vittime del terremoto Un applauso grande Per tutte le persone Che hanno perduto tutto E per che si possa rialzare Fuerte, fuerte, fuerte che si sienta Vamos! La società operaia cattolica Nostra Signora dell'Orto a Chiavari Ogni anno Nella domenica in Albis Effettua una raccolta Offrendo il pane benedetto Davanti alle chiese Del nostro territorio Quest'anno sono stati raccolti Oltre 3.000 euro Che sono stati consegnati Ai frati Cappuccini di Chiavari Per sostenere il servizio Della mensa dei poveri Che pensate Quest'inverno è arrivata Ad offrire più di 70 pasti caldi Ogni giorno Vediamo Questa mattina avete consegnato Il vostro ricavato A padre Lorenzo Ai frati Cappuccini Sì Ricavato della distribuzione Del pane benedetto Che abbiamo fatto domenica In Albis Cioè la domenica dopo Pasqua Diciamo che quest'anno È andata meglio Dall'anno scorso I chiavaresi hanno risposto bene E anche la collina Di Chiavari ha risposto bene Siamo recati anche a Magiena E anche a Levi San Rufino Le parrocchie quasi tutte Speriamo che Adesso abbiamo altre iniziative Che anche quelle portino i frutti migliorativi Dall'anno scorso Una è la pesca di beneficenza Che facciamo per la cattedrale L'altra è la giornata di telepace La merenda per telepace Che facciamo il 28 agosto Siete sempre stati molto vicini ai frati Cappuccini Direi che da Potrei dire da circa 20 anni Che facciamo Da quando abbiamo ripreso Questa antichissima tradizione Perché è un'antichissima tradizione Da quando l'abbiamo ripresa Però diciamo che Sino a due anni fa La facevamo solo in cattedrale Alla raccolta quindi Poi con l'ingresso dei giovani E hanno detto Ma perché non andiamo anche nelle altre parrocchie Diciamoci Avendo più forze Lo abbiamo fatto E è chiaro che il risultato È stato migliorativo Ha trovato una contribuzione A ben 70 pasti giornalieri Sì E purtroppo Ne parlavo prima col padre Dico Il vostro conto sarà sempre in rosso Vi diceva certo Perché qui Purtroppo Il numero delle presenze Aumenta continuamente Quindi Noi facciamo quello che possiamo Speriamo che altre associazioni Tengano a cuore Questa realtà Che Grazie a Dio Abbiamo a Chiavari E Possiamo andare a proseguire Nel tempo Questa mattina Ha ricevuto un regalo Un grosso regalo Che mi ha fatto molto piacere Perché Ne abbiamo Ne abbiamo bisogno Ma Tanto bisogno Abbiamo una Una settantina di persone Che tutti i giorni Vengono a mangiare Da noi A mezzogiorno Cerchiamo di trattarli bene Cerchiamo di dargli Naturalmente Il pasto Abbondante Ci vogliono Tanti soldini È anche un grosso impegno Per voi È anche un grosso impegno Sì sì Questo qua È una generosità Naturalmente Noi ci mettiamo Un pochino Tutte le nostre La chiesa Quello che ci viene Dalla chiesa Le nostre pensioni Vanno tutte Alla mensa 70 pasti Sono Sono tanti Giornalmente Sono tanti Tanti Specialmente Quest'inverno Abbiamo Passato I 70 Forse adesso Sono un pochino Di meno Ma Per un mese O due Abbiamo toccato I 70 75 Primo Secondo Se abbiamo anche la frutta Gli diamo anche la frutta Qualche d'uno Magari Chiede di qualche cosa Per mangiare la sera Gli diamo anche qualche cosa Per mangiare la sera E Una cosa che mi fa molto piacere È quella che Quasi tutti i giorni Finito di mangiare Ringraziano la Cuoca Per il Per quello che è Passato Allora Padre un grazie E anche un invito A tutti quanti Credo No? Lei voglia dare Un grazie particolare Naturalmente Per questa raccolta E un grazie anche A tutte A Chiavari Che in qualche modo Ci aiuta Le persone Che si portano Viveri Vi dicendo Grazie di cuore Entra nel vivo La festa In onore Di Santa Maria Della Rosa Nella parrocchia Di Santa Margherita A Santa Margherita Ligure Sabato pomeriggio Alle 16 L'offerta delle rose Da parte dei bambini A Maria Domenica mattina Alle 11.30 La Santa Messa Solenne Sarà presieduta Dal vescovo Diocesano Monsignor Alberto Tanasini Nel pomeriggio Alle 17 Ci sarà il vespro Presieduto Da Don Pino Carpi Che è stato parroco Della comunità Di Santa Margherita Negli anni 90 Che attualmente È parroco Di Santo Stefano Del Ponte A Sestri Levante Al termine del vespro Ci sarà la processione Come sempre Nella giornata Di domenica Ci sarà la tradizionale Fiera In piazza Caprera Inoltre Lunedì 2 maggio Alle 17 La Santa Messa Con unzione Degli infermi Presieduta dal parroco Don Gian Emanuele Muratore Animata Dai bambini Della comunità Dei figli amati Ricordiamo inoltre Che questa domenica Si celebra La Pasqua Per i cattolici Di rito bizantino La comunità ucraina Del nostro territorio Si ritroverà A Chiavari Sabato pomeriggio A partire dalle 14.30 Nella chiesetta Delle Clarisse Di Via Entella Per celebrare La divina liturgia E la benedizione Dei cibi pasquali Lo ricordiamo Sabato pomeriggio Alle 14.30 È tutto per questo Nostro appuntamento Settimanale Con noi chiesa La trasmissione Che vi propone Il consueto viaggio Di approfondimento Attraverso tutto quello Che accade nella vita Della diocesi di Chiavari Grazie per averci seguito E come sempre L'appuntamento Alla prossima settimana Grazie a tutti